Alzatevi, che non voglio farvi del male. Alzatevi! Chi siete? Cosa volete da me? Vanno forse maltrattata? Perché mi hanno presa? Sono una povera creatura, in nome di Dio. Dio. Dio, sempre Dio! Coloro che non possono difendersi da sé hanno sempre questo Dio da mettere in campo come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con questa parola? Di farmi paura? Oh, signore, pretendere. Cosa posso pretendere io? Mi hanno presa a tradimento, mi hanno portata qui per forza. Lasciatemi andare! Lasciatemi andare! Non andate a dormire, signore? Dove va tutta quella canaglia? Vanno incontro il cardinale Borromeo che è arrivato a chiuso. Per un uomo. Tutti premurosi, tutti allegri per vedere un uomo. Cosa ha costui per rendere tanta gente allegra? Qualche soldo che distribuirà così all'avventura? No, non vanno tutti per l'elemosina, signore. Ognuno avrà il suo diavolo che lo tormenta. Che preziosa visita è questa. È come devo esservi grato di una così buona risoluzione. quantunque per me abbia un po' del rimprovero. Rimprovero? Certo, perché da tanto tempo avrei dovuto venire io da voi. Da me? Voi? Ma sapete chi sono? E vi pare che la consolazione che sento nel vedervi qui potrei provarla alla vista di uno sconosciuto. Siete voi. Voi che ho tanto amato e pianto per cui ho tanto pregato. Voi avete una buona nuova da darmi. Una buona nuova io? Io ho l'inferno nel cuore. Che Dio vi ha toccato il cuore. Lasciate. Lasciate che io stringa la vostra mano. Che ora sollederà tanti afflitti, riparerà tanti torti. Quanti torti. Quanti delitti. Ma almeno ne ho uno che posso subito riparare. Oh, Dio vi ha benedetto. Questo è pegno del suo perdono. E' una povera giovane che i miei uomini rapirono ieri nei pressi di un convento di Monza. Perdonatemi. Oh, signore. Dio vi renda merito della vostra misericordia. E a voi cento volte il bene che mi fanno con queste vostre parole. Vai. Non è un rimprovero che voglio farvi. Io che sono il peggiore di tutti. Ma sentite ciò che vado a dire. Dio misericordioso mi ha chiamato a mutar vita. E io la muterò. L'ho già mutata. Levo a ognun di voi gli ordini scellerati che avete da me. Nessuno da qui in avanti potrà fare del male con la mia protezione. Al mio servizio. E Dio che ha usato con me tanta misericordia. Mandi a voi il buon pensiero. Andate. E Dio che ha usato con me